Allora il ritmo è questo, lui riparte, arriva lui e tu ogni tanto come se fosse un colpo di fucile la pistola è molto noir, non metto troppe, poche note ma intense, hai capito? Uno, due, tre, iniziamo un caffone, un caffone, un caffone, un caffone di picciane, un caffone di teto, un caffone di boccia, un caffone di boccia un ignorante io devo guardare il caffone. Io sono ignorante, però stiamo creando. Questa è stupenda, ma guarda, questa è una storia, fantastica, se no ti scordo dopo. Ciao 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 Mi sembrava buona